ciao oggi mi è arrivato il pacco il paccone di tati praticamente pensavo che fosse una scatolina più piccola ma mi è arrivato praticamente questo pacco che enorme c'è questo tutto questo quello che c'è dentro e tutta la carta che c'è e ancora lo devo aprire e lo aprirò con voi c'è praticamente questo è tutto l'ordine che ho fatto alcuni forse sono gli extra se non sbaglio non lo so tutto lo vediamo assieme allora non si sentono le perline un morbido poi apri questo prima apri questo ok allora intanto vi faccio vedere questo che praticamente è l'asta che ho vinto che belli questi decotap vediamo se riesco a prendere ecotap magari di guardate qua ma sono troppo carini ok basta e poi questi qui con i cattini vantini ma che carini allora praticamente è quest'asta e in caso sotto vi scriverò anche il link qua sotto della sua pagina che è creazioni lande quindi l'avrete capito tati no? questo è questo qui questo è questo è questo da qui te vi faccio vedere guardate è troppo carino ok questi qui li conservo e va bene, poi piano piano se riesco a staccare questi, ecco qua questo è quello che ho vinto all'asta praticamente con tutte queste cose all'interno l'asta era a partire, no forse c'era scritto guardate, ecco qua, qua c'è la pagina creazioni landia e c'è scritto il sito web, non so se l'ho riuscita a leggere va bene è qua dentro il mio tessore, oddio voglio morire, guardate allora ci sono queste che sono tutte in... come si chiama? a forma di stellina, però non mi ricordo il materiale è comunque di plastica, resina, penso in resina, ma che dico in acrilico? va bene, ok poi c'è questi qui a forma di stella poi questi stupendolosamente stupende perle fatte così poi ci sono queste perle che sono dei divisori azzurre e argentate poi questi cristallini ah sono dei cristallini dalle foto non si vedevano questi qui questi cristallini rossi poi altri cristallini da 5 mm sicuramente color rosa pastello rosa poi queste perloni ok ok è là sotto e sì poi lo prenderò sono da 2 cm sono enormi poi questi cristallini che sono però in plastica questi qui aspetto vediamo se riesco a prendere a farveli vedere sono fatte così e poi queste queste qui che mi piacciono da morire poi queste che sono delle perline che praticamente si incastra qua dietro così poi bottoni che sono molto carini molto estivi secondo me anche per gli orecchini questi vanno bene e poi questi che sono stupendi sono più grandi di quelli che avevo ordinato da lei tanto tempo fa sono berline stardust oh mio dio ho pochissima batteria e poi queste devo stoppare ragazze perché nell'altro praticamente mi si è spenta la batteria e adesso devo aprire questi due pacchi ancora sempre di creazioni landia da di Tati allora prima di questa apriamo qua così da questo tetto già li ho attaccati in un armadietto questo questo è il suo biglietto ve lo faccio rivedere per l'ennesima volta creazioni landia qua c'è il sito ecco qua allora abbiamo questo subito subito perché ho la telecamera sotto carica quindi posso fare il video per tutto il tempo sì io avevo le forbici appunto ok qua vabbè allora io avevo pure ordinato delle perle di ceramica da lei adesso non mi ricordo quanto mi ho fessato addio vabbè strapposotto insomma sono qua dentro eccole eccole qua addio mi stanno accadendo tutte cose allora ho ordinato questi non mi ricordo forse due due lotti forse uno ma che carini questi aspetta questi vero li ho ordinati pure non mi ricordo comunque questi sono così bellissime devorate poi un filo di queste che sono stupende guardate qui sono bellissime ok poi questo qui non mi dire tati che questo è l'omaggio perché sembra abnorme ma è un carto allora dov'è che si apre ecco il bello è che non voglio rompere i decoteppi perché sono magnifici ok apriamo questo se mela ce la fa non ci taglia perché è oh mio dio non so cosa ah vero sì perché avevo ordinato anche oh mio dio ora per non rovinarli al solito devo riuscire guardate guardate stupendo e metti a fuoco su ok guardate che carini basta poi poi vediamo qua dentro allora ah questo è la la non mi ricordo il nome come si dice la fedele card questo lo conserverò ciao a me spero ti piacciono tutti questi regalini un bacione tati ah tati tati allora oh my god questi sono ciondoli in bronzo io mi squaio adesso mi sciolgo oh mio dio ah guardate allora c'è questo ciondolone in dovrebbe essere in filigrana dice bambi che carino basta poi questo qui ah Alice poi ma quant'è c'è un bordello poi questi aspetta questo è un medaglione con questo disegno con questo disegno aspetta ecco poi questi che sono infinito e segno dell'infinito sempre in bronzo come piace a me ah faccio questo enorme io ci faccio una collana tutta mia questo qui e poi vabbè questo è l'altro oh mio dio mi hanno mandato queste basi per per anello in bronzo voglio morire voglio morire altri altri vasi per anelli per anelli in bronzo non ho parole tanti ah pure questi ok poi questi per i messaggini per metterli dentro le boccette poi questi fiocchettoni abnormi e fucsia no rosa e azzurri oh mio dio poi queste catenelle dovrebbe essere una catenella lavorata sì il citofono proprio adesso ci vediamo qua di nuovo mi sono arrivate altri pacchetti allora dicevamo poi vabbè vi ho fatto vedere non mi ricordo più cosa vi ho fatto vedere prima allora poi mi hanno mandato queste perline sono stanca ragazze queste perline di queste bianche belle grazie grazie poi oh mio dio altri altri in bronzo perché ovviamente lei sa che io amo stramo il bronzo allora mi hanno mandato tante cose perciò due torri così un bel paio di orecchini tipo fatte così se li vedesse una mia amica impazzirebbe perché quella ama Inghilterra Londra forever poi questi due micetti fatte così carini anche con un paio di orecchini queste chiavi che sempre da lei ho acquistato tanto tempo fa non so un lotto era poi questi gattini che ce ne sono quattro se non sbaglio quattro di questi giusto queste ah no sono diversi ok allora questi così e poi questi fatti così questi sono molto carini pure e poi questi che io ce li ho pure argentati ma questi sono di bronzo sono più belli ecco qua poi un altro cioè guardate sono tutti in bronzo allora vi faccio vedere questi che sono le perle rigate e poi qui c'è il bianconiglio e poi se non sbaglio c'è anche e i charms con la macchina da cucire e non so come poterli prendere perché sono praticamente lì sotto aiuto aiuto ecco qui eccole queste qua perché praticamente le cercavo ovunque perché una mia amica che ama tanto cucire gli dovevo fare una collana e lei giustamente mi ha mandato questi grazie tati sei pazza però ti ringrazio allora vediamo questi altri pacchettini e poi finiamo praticamente allora qua c'è un bel po' di cose oddio c'è questa questa qua poi delle torri e fail tipo così vi faccio vedere una mette a fuoco per favore se no non lo finiamo più sto video poi delle chiavi fatte così belle ah dei cuoricini dei cuoricini fatti così poi questi sono degli uccilini con dei fiorellini in tutto questo non so se riuscite a vedere poi dei timoni tanto belli questi e delle manette che sono carine le manette queste qui non so cosa c'è scritto freedom può essere sì vabbè che ce ne frega poi delle placchette made with love sono molto utile molto belle e poi niente le chiavi tipo fatte così e basta gli altri sono tutti gli stessi oh mio dio poi se me la riesce ad aprire figlio prima forse ok poi mi ha mandato questi ciondoloni bellissimi di di coniglietti con fiocchetto belli grazie così sono stupendi aspetta ve li posso accacciare ah qua sopra qui sono belli poi questi denti da Dracula e poi le due coroncine che sono pure molto belle da fare a mo' di braccialetto oppure con lana perché funge da connettore praticamente come vedete ok poi l'ultimo pacchettino la tatì matta ovviamente mi vuole morta ok questo è l'ultimo sono due gabbiette fatte così poi due cigni 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 così poi delle chiavi fatte così chiavi forbici e chiavi questi sì che sono belle queste mi fa pensare tanto Sailor Moon non so perché va bene questo penso che sia tutto però c'è una cosa non è negativa tranquilla però mancano se non sbaglio avevo ordinato c'è pure questo avevo ordinato se non sbaglio delle ancore poi forse non non ti sono arrivate però va bene non importa hai sostituito tutto questo per me va bene va bene così Tati e noi intanto ci vediamo al prossimo video e niente vi saluto ciao